Una giovane commerciante giarese ieri sera intorno alle 20 e 40 è stata vittima di una tentata a rapina mentre a bordo della propria auto in via Carolina in pieno centro storico a Giare si accingeva a mettere in moto l'utilitaria. Due giovani in sella di uno scooter con il volto parzialmente travisato da un cappuccio si sarebbero avvicinate alla donna. Uno di essi ha aperto lo sportello lato passeggiere con forza ha tentato di strappare dalle mani la borsa. La vittima che dal telefono con un'amica ha interrotto bruscamente la comunicazione opponendosi al giovane malvivente. Le urla della commerciante hanno poi tirato l'attenzione alcuni passanti. A quel punto i due rapinatori hanno desistito rinunciando all'azione criminale e fuggendo via in sella lo scooter in direzione di Villa Margherita. Nel giro di pochi minuti sono accorsi in zona i carabinieri allertati dalla persona che poco prima era al telefono con la commerciante. Comunicazione che si è poi interrotta proprio nel momento in cui è avvenuto il tentativo di rapina e che sentendo al telefono le urla della commerciante nell'attimo in cui si opponeva al malvivente ha subito allertato il 112. I carabinieri hanno avviato le indagini del caso. Quasi certamente gli autori dell'azione criminale hanno seguito a distanza la vittima ieri sera nell'ora di chiusura del negozio attendendo che si recasse a piedi verso la propria auto.